E' uno scherzo in musica come faccio sempre, scherzo col pubblico, in francese si dice jouer, cioè recitare e giocare con il teatro. E lo faccio da tanti anni, mi piace farlo e questa volta noi ci troviamo, questo è bene che lo sappiate, tra ai confini di Grumonevano e Fratta Maggiore, al centro ci sta questo paese che si chiama Santo Arpino, c'è un pubblico meraviglioso, il Lendi è un teatro molto bello, molto comodo, cosa che non è da tutti i giorni, perché molto spesso pensano sullo teatro e mai agli attori, invece qua gli attori sono molto coccolati, molto amati, i camerini sono comodi, viva Dio, finalmente un luogo per stare in pace e recitare bene. Il fatto che la stagione si apra con lei maestro vuol dire che già è una gran bella stagione, facciamo un augurio a questo teatro? Ma io penso che l'augurio più bello che si possa fare al teatro è dire merda, perché si dice merda? Perché all'epoca quando non c'erano le macchine e c'erano le carrozze, più carrozze stavano davanti ai teatri e più pubblico c'era. Le carrozze avevano i cavalli, i cavalli facevano le cacche e praticamente più cacca ci stava, più pubblico c'era, per cui ancora oggi è rimasto questo augurio. Per i teatranti è merda. Dopo il Lendi ci vediamo poco fa, continua, continua in una sua tournée? Si stacca un po', si riposa un po', ci vediamo poco fa, perché stiamo provando la cantata dei pastori, che andrà in giro per tutto dicembre, non a Napoli ma in provincia, cosa che l'anno prossimo invece faremo a Napoli in una chiesa sconsacrata, così stiamo cercando di fare, perché è un avvenimento importantissimo quello della cantata. Dopodiché a gennaio, il 23 gennaio, interpreto Niegus nella Vedova Allegra al San Carlo. Dopodiché faremo di nuovo questo spettacolo, questo spettacolo qui, e poi Sogno di una notte incantata, che è lo spettacolo su Gian Mattista Basile. Tieni qua, tieni qua, tieni qua, a pezzacchillo, dal ca, tieni qua, che sta bocchella, ma fa morire l'asilo, a pezzacchillo, l'hai da piglia, tieni qua, e tieni qua, e tieni qua, e tieni qua. Buonasera, grazie di essere venuti, prima di continuare volevo presentarvi i miei compagni di viaggio. La chitarra classica è il maestro Paolo del Vecchio. La chitarra classica è il maestro Paolo del Vecchio La chitarra classica è il maestro Paolo del Vecchio. E con una notteistica è il maestro Paolo del Vecchio. Volevo diventare con il silenzio, ma ti faccio un po' di amore, perché questa volta va a amore, che io non ti cerco più, va a amore, perché questa volta va a amore. Volevo diventare un magre sonno, ma ti faccio una catturma circa me. Volevo diventare con il silenzio, ma ti faccio un po' di amore, perché questa volta va a amore. Volevo diventare con il silenzio, ma ti faccio un po' di amore. Volevo diventare con il silenzio, ma ti faccio un po' di amore. Volevo diventare con il silenzio, ma ti faccio un po' di amore. Grazie. 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 Grazie.